Allora, iniziamo oggi quella che è l'ultima ma potrebbe essere la prima lezione del corso in cui cerchiamo di avere qualche elemento per rispondere alla domanda ma come funziona, ma come fa a funzionare un elaboratore. Abbiamo dato per scontato il primo giorno di avere una macchina in cui se metti dentro un programma poi questo è capace di eseguirlo. Cosa significa eseguire un programma? E' come fatto all'interno a grandissime linee, quindi facciamo in un'ora e mezza quello che normalmente si fa poi in dieci crediti di corsi perché studia queste cose per bene, a grandissime linee come funziona all'interno del calcolatore. Se potessimo vedere dentro che cosa vedremmo e come fa a fare le cose che siamo abituati a fargli fare, quindi come è composto all'interno. Allora, se noi andiamo a togliere, cominciassimo a prendere un calcolatore e togliessimo tutto ciò che non serve, che non è direttamente funzionale all'esecuzione dei programmi, che poi è lo scopo principale del calcolatore, eseguire i programmi, ma poi abbiamo la tastiera, ma poi abbiamo lo schermo, ma poi abbiamo il mauro, ma poi abbiamo la chiavetta, abbiamo tutta una serie di periferi che le chiameremo tra un attimo, che non sono indispensabili all'esecuzione di un programma. Ma ciò che rimane, avendo tolto tutto il superfluo, rimane una coppia di elementi che sono qui schematizzati, chiaramente sono elementi elettronici, che sono schematizzati come unità di elaborazione e memoria, e tra un attimo aggiungeremo la parolina memoria interna del calcolatore. Questo è il minimo indispensabile, al di sotto di questo un computer non esiste. Qui parliamo di computer, parlando di personal computer, ma parliamo anche di telefono cellulare, parliamo anche di telecomando del televisore, alla fine non funziona in modo molto diverso, qualunque range di dispositivo elettronico funziona con un elemento che sia in grado di eseguire dei programmi, eseguire delle istruzioni, adesso entriamo un pochino più nel dettaglio, è un elemento nel quale siano memorizzate tale istruzioni da eseguire e i dati su cui l'istruzione il programma deve lavorare. Se io avessi solo la capacità di memorizzare dei dati, quei dati starebbero lì fermi e non farebbero nessuna elaborazione, se avessi solamente la capacità di elaborare delle informazioni ma non sapessi quale programma eseguire, non sapessi quali sono i dati da dare in pasto a questo programma, non farei nulla. Questi due sono indiscindibili. Ovviamente sono all'interno di un elaboratore che ha fatto di tanti circuiti di tipo digitale, quindi che elaborano informazioni binarie, 0 e 1, che noi sappiamo già che con i 0 e 1 posso fare numeri interi, posso fare numeri reali, posso poi codificare le immagini, il testo e tutto quanto sono le varie tipologie di informazione, le stringhe con cui abbiamo che fare. Ma il calcolatore però è immerso in un mondo che digitale non è, e quindi quando il calcolatore deve leggere dei dati, li leggerà acquisendoli da una tastiera, che non è digitale, ci sono i tastini di plastica, io li premo, lì faccio uno spostamento meccanico, fisico, che sta nel mondo analogico, delle quantità fisiche. Quando io parlo e il computer registra i video che poi vi pubblico, parlo dentro un microfono che va a registrare le onde radio, che sono un fenomeno fisico di tipo analogico, cioè una funzione che varia con continuità nel tempo, non è fatta di 0 e 1, è fatta di valori di pressione, in questo caso sonora dell'aria, e così via. Quindi per poter acquisire dei dati su cui lavorare, il calcolatore o li prende altri calcolatori, allora è facile perché sono già in formato digitale, ma se deve leggere dal mondo deve avere tutta una serie di sensori, di periferiche di ingresso che permettono di convertire un dato analogico fisico in un dato digitale, così come sul lato dell'uscita l'informazione è calcolata, se il valore calcolato dal programma è 42, io questo 42 non ti posso teletrasportare i bit nel cervello affinché tu sappia che quel valore è 42, dovrò mostrartelo da qualche parte, te lo stampo su un pezzo di carta, te lo faccio vedere a schermo, te lo sintetizzo con la voce del navigatore, ma in qualche modo devo ripassare nel dominio analogico in cui noi esseri umani, ma tutto il resto del mondo siamo immersi per far sì che questo dato sia poi visibile all'esterno, quindi un elaboratore alla fine fatto di un core centrale, un nucleo centrale che esegue i programmi e tutta una serie di accessori che chiamiamo periferici, che non servono ad eseguire programmi, ma servono a far sì che questo programma possa comunicare col mondo esterno a livello di input e a livello di output, quindi se vogliamo il 90% del computer che avete comprato non serve, non serve a eseguire programmi, serve affinché voi lo possiate usare, in realtà se uno sta a vedere il 90% del peso è batteria, tutto il resto invece sono le cose di cui abbiamo parlato. Quindi questi periferici di ingresso e uscita alla fine hanno questa funzione, diciamo così, poco dignitosa anche di convertire dei segnali dal mondo analogico al mondo digitale, ma proprio perché essenzialmente gli utenti del calcolatore vivono nel mondo analogico, mentre la parte più, e tutto sommato sono dispositivi relativamente più semplici, la parte più complicata sulla quale ci concentriamo oggi è invece la parte centrale, l'unità di elaborazione e la memoria, quella che a volte si chiama microprocessore o CPU, sono tutti nomi più o meno sinonimi per indicare la parte del calcolatore che è in grado di eseguire le istruzioni. Istruzioni, non il linguaggio di programmazione, non il programma. Questo qui non so perché è ricomparso, ok c'è una terza voce, che abbiamo visto essere inscindibile, e tra un attimo quando vediamo come funziona capiamo anche perché, dà la possibilità di avere delle memorie a bordo del calcolatore che serve per salvare i dati ma soprattutto anche per scriverci dentro il programma. Allora, partiamo dal cuore, microprocessore. Quindi noi abbiamo un computer intero all'interno del quale ci sarà sieno, ma non un centimetro quadrato, molto meno di un centimetro quadrato di circuiti digitali che costituiscono il vero e proprio microprocessore, che è l'unico elemento all'interno del computer che fa davvero dei calcoli, che esegue davvero dei programmi. Cosa è capace a fare il microprocessore? Beh, ha dei circuiti che sono in grado di fare delle elaborazioni, diciamo elementari, molto semplici, molto più semplici che siano alla base di tutte le elaborazioni che possono essere poi sfruttate dai linguaggi di programmazione di alto livello. Quindi è un circuito che alla fine è capace a fare le quattro operazioni somma, sottrazione, divisione, moltiplicazione, i confronti, è capace a salvare dei dati, è capace a recuperare dei dati dalla memoria e non molto altro alla fine, il singolo microprocessore. Quindi se voi andate a comprare al supermercato una calcolatrice da 5 euro, alla fine voi potete far finta di essere un microprocessore, perché sapete fare le stesse operazioni che fa quella calcolatrice. Anche memorizzare i dati, anche il tasto M di memoria la calcolatrice da 5 euro. La differenza è che il microprocessore lo sa fare facendo magari miliardi di queste operazioni al secondo, mentre noi col nostro ditino riusciamo a fare, sennò, due operazioni al secondo. E quindi è un pochino più ottimizzato. Per quello sembra che sia molto potente, perché sa fare le cose elementari, ma sa fare in modo talmente veloce che in unità di tempo riesce a fare veramente moltissime operazioni elementari e quindi di fatto riesce a costruire delle elaborazioni più complesse. Normalmente la CPU, il microprocessore, non memorizza dei dati al suo interno, se non una minima quantità indispensabile per poter fare le operazioni che gli servono. La calcolatrice ha il display in cui potete vedere l'ultimo numero che avete scritto o il risultato dell'ultima operazione che avete fatto, ma non ha grande capacità di memoria. Non gli serve per fare i calcoli. Quindi si appoggia su una memoria esterna, oppure come vedremo anche tra un attimo, in realtà ha una piccola parte di memoria interna che gli serve semplicemente per velocizzare le operazioni. Ma vediamo dal punto di vista logico come funziona questa cosa. Allora, quello che chiamiamo microprocessore, alla fine se lo aprissimo, dentro è fatto da un nucleo che è a vera unità di elaborazione, processing unit, e aggiungiamo centrale così per dire che è l'unica, e questa è la sigla CPU, è stranota dai tempi andati. Quindi l'unità centrale di elaborazione è la parte del microprocessore, CPU e microprocessore non sono sinonimi, ad essere precisi. La CPU è una parte del microprocessore che corrisponde è la parte che effettivamente esegue le elaborazioni. Poi dentro CPU, dentro il componente di silicio che era qua disegnato ad esempio, questo è un microprocessore che vi vendono sul mercato, ci sta la CPU, ma ci sta, visto che c'era spazio, ci hanno messo dentro un po' di memoria, ci hanno messo già un po' di interfaccia per permettere al microprocessore di andarsi a interfacciare, che ne so, con l'USB, con la scheda video o con le altre periferiche. Visto che c'era spazio, tutto ciò che sta a bordo del processore va più veloce del resto del computer, perché è un circuito più denso e può lavorare a una velocità maggiore, quindi nei limiti di spazio cercano di mettere maggiore funzionalità. Ma al di là di questi che sono vicini alla CPU, sullo stesso circuito della CPU per ragioni di efficienza, il vero lavoro lo fa questo signore. Quindi, come vedete, stiamo spacchettando, abbiamo preso dal computer la parte elettronica, dalla parte elettronica l'unità centrale di elaborazione che ha fatto la CPU da microprocessore e memoria, togliamo la memoria, togliamo ciò che accende il microprocessore che non fa parte della CPU vera e propria e finalmente entriamo dentro la CPU, che al di là dei trucchi per rendere più efficienti sono oggetti logicamente abbastanza semplici. Una CPU all'interno la possiamo immaginare come divisa in due parti, una parte che chiamiamo unità di controllo e una parte che chiamiamo unità operativa. L'unità di controllo è quella che decide cosa bisogna fare. L'unità operativa è quella che sa fare le cose. Sembrano poi le barzellette sui carabinieri, no? Senza offesa. Uno scrive l'altro legge. Qui uno decide e l'altro fa. L'unità di controllo è quella che dice adesso bisogna sommare due numeri. Ma lei non li sa sommare. L'unità operativa è quella che dice ah, c'è da sommare due numeri? Io li so sommare. Ma se non mi dici che devo sommare, non mi dici quali numeri sommare, io non so che cosa fare. Ok? Quindi nella parte dell'unità operativa transitano i dati e vengono elaborati i dati. Quando voi fate A più B, C uguale a C più 1, capita qua dentro. Questo più 1 lo calcola una parte di circuito elettronico che sta dentro l'unità operativa della CPU, del microprocessore, del vostro computer. Il fatto che l'unità operativa sappia che deve fare una somma e non una sottrazione in quel momento lo dice l'unità di controllo. E questa unità di controllo come fa a saperlo? Ebbè, lo saprà andando a vedere il programma che avete scritto. Quindi l'unità di controllo detto all'alto livello, legge il programma, poi vediamo come funziona questo meccanismo. Legge il vostro programma e lo traduce in comandi da dare all'unità operativa. L'unità operativa, poverina, non capisce nulla, non sa cosa sta facendo, non sa quale programma stiamo eseguendo, gli dicono di fare una somma, gli dicono di fare una sottrazione, gli dicono di fare un confronto, gli dicono di fare un confronto. Che senso abbiano questi confronti, queste operazioni che portano a un certo risultato? All'unità operativa non interessa, lei fa un'operazione per volta a seconda di quello che gli viene detto. Da chi? Dall'unità di controllo. L'unità di controllo dice di fare le cose in funzione di che cosa? Del programma che è stato scritto, che noi abbiamo scritto finalmente. Ok? Quindi, quando stiamo alle istruzioni che coimplicano dell'elaborazione dei calcoli, ogni istruzione viene in ultima analisi eseguita qua dentro, nell'unità operativa. E l'unità di controllo garantisce che vengono eseguite le operazioni giuste nell'ordine giusto. Allora, proviamo ad entrare dentro ciascuno di questi due blocchi, avendo più o meno capito qual è la loro missione nella vita. L'unità operativa quindi è un'unità passiva, è capace a fare cose, ma se nessuno gli dice di farle non sa quali fare, da sola. È composta al suo interno di circuiteria di calcolo, qui l'abbiamo distinta, ma più che altro per ragioni storiche, in una unità ritmetico-logica e unità in virgola mobile, è floating point. Poi a volte in alcuni microprocessori le due cose sono fuse insieme, a volte sono separate, a volte ci sono 5 ALU e 4 F+, perché i processori moderni sono capaci di fare più operazioni in parallelo, ma questo non cambia il ragionamento generale. Abbiamo dei circuiti, quelli sulla destra, ALU e F+, che fanno... Vi ricordate quando abbiamo imparato a fare le somme con i numeri binari? Ecco, lì dentro c'è un circuito che sa fare 0 più 0, 1, 1 più 1, 0 con il riporto di 1. C'è un circuito che fa quello. Per forza, ci deve essere, è lì dentro, ed è solo lì dentro. Quindi tutte le somme che facciamo alla fine arriveranno a un circuito, scusate, dentro l'unità ritmetico-logica che fa quell'operazione. la fa su quali valori? 1 più 1, 7 più 4? Beh, la fa sui valori che io avrò memorizzato in una serie di celle di memoria a cui l'unità ritmetico-logica ha accesso diretto. Questi si chiamano registri. Registri sono una serie di celle di memoria che sono direttamente collegate con le unità ritmetiche. E quindi le unità ritmetiche possono fare operazioni, insomma situazioni, confronti, eccetera, solo su dati che siano stati preventivamente memorizzati nei registri. Quindi se, adesso facciamo uno zoom ancora, quindi l'unica differenza tra le ALU e le FPU sono il tipo di numeri su cui lavorano. Quando parlo di unità ritmetico-logica immagino un'unità che si è a grado di fare operazioni su numeri interi, cioè complemento 2, oppure in binario puro, tanto abbiamo visto che le operazioni si fanno nello stesso modo. L'unità ritmetica-logica non sa neanche se sta facendo operazioni su binario puro sul complemento 2, lei le fa seguendo le regole e basta. Mentre invece quando parliamo di unità in floating point fa lo stesso tipo di operazioni ma le fa su dei numeri in virgola mobile, tipicamente poi è anche in grado di fare operazioni più complesse tipo quelle trigonometriche esponenziali, logaritmiche che non hanno senso sui numeri interi, ovviamente, le farà l'unità in floating point. E' ovvio che per il tipo di lavoro che deve fare l'unità in floating point è più lenta. Cioè fare un'operazione di somma o di moltiplicazione tra numeri reali è un pochino più lento rispetto a fare l'analogo operazione di somma o di moltiplicazione tra numeri interi. Però a parte questa differenza, il tipo di dati su cui lavoro e la velocità di esecuzione fanno la stessa cosa. Prendono dati che gli vengono forniti nei registri, fanno l'operazione che gli viene detta e poi smutano fuori il risultato. Quindi questi registri sono piccoli elementi di memoria che servono principalmente per parcheggiare i dati su cui le unità rinmetiche devono lavorare. Quando noi scriviamo un programma c uguale a 70, questo 70 finirà nella memoria del calcolatore, ma l'unità rinmetica logica non è collegata alla memoria del calcolatore. Andiamo indietro di tanti disegnini, dove era la memoria? La memoria era qui, se riesco a tornare, qui. Noi siamo dentro l'unità di elaborazione e all'interno dell'unità di elaborazione dentro la CPU e dentro l'unità operativa e dentro l'unità rinmetica logica. Qua, dall'unità rinmetica logica, non ho un collegamento diretto con la memoria. Non posso fare somme, situazioni e operazioni su dati che stanno in memoria, ma solo su una piccola, diciamo così, blocchetto di memoria, che si chiama blocco dei registri, che è di servizio all'unità rinmetica logica. Quindi, l'unità rinmetica logica cosa fa? Qui è schematizzata, come spesso si fa, come una sorta di V, no? O di imbuto, con due ingressi. Io devo fare un'operazione. Quale operazione faccio? Beh, da sotto mi dicono che operazione devo fare. Fai una somma. Tra che cosa? Beh, tra il numero che è contenuto nel registro verde e il numero che è contenuto nel registro blu. Registro significa semplicemente una cella di memoria che può contenere un valore. Valore intero, valore reale. Nel caso di un'unità rinmetica metriologica alu intera sarà un numero intero. Nel caso di un FPU va a prendere il registro che è sempre fatto di bit e di 0,1, ma li interpreta in floating point, singola precisione, doppia precisione, a seconda dell'istruzione che gli chiedo di fare. Quindi, l'unità metriologica è un circuito che sa fare tante operazioni. Infatti qua non c'è scritto addendo 1, addendo due, parlo di operando, perché magari quei due operandi possono fare varie operazioni, le moltipico, le somme, le sottraggo, le confronto. L'unità metriologica ha tre informazioni di base. Che operazioni devo fare? Da dove prendo l'operando 1, da dove prendo l'operando 2 e da dove prendo solitamente è un registro, uno dei registri. Poi ci sono vari processori sul mercato e hanno tutti un modo diverso di codificare le informazioni, un numero diverso di registri, ci sono processori con meno registri, altri ne hanno di più, alcuni hanno tipo 128, processori tipo RISC, processori tipo Intel invece sono più limitati, hanno circa un 32, ma quello dipende un po' da chi ha progettato il processore. Prendete il processore dell'Arduino ne ha di meno, ne ha 8 tipicamente, poi questi registri possono essere da 8 bit, da 16, da 32, da 64, a seconda del processore che comprate. Oggi i processori per il personal computer, ma anche quelli per il smartphone, sono tutti a 64 bit. Cosa vuol dire che un processore ha 64 bit? Che la sua unità metriologica è capace di fare la somma direttamente di due numeri di 64 bit ciascuni. Quindi quell'imbuto lì entreranno sull'operando 1 64 fili e sull'operando 2 altri 64 fili e lui in uscita ti dà un terzo blocco di 64 fili sulla quale riporterà il risultato dell'operazione di somma o moltiplicazione dei due operandi. ovviamente anche questi registri interni saranno tutti registri di 64 bit ciascuno. Quindi saranno in grado di memorizzare numeri di 64 bit. Processori meno costosi, più lenti, per compiti magari più, diciamo così, di microcontrollori o cose di questo genere che non servono per un pc di calcolo, diciamo, normale, allora magari risparmiando soldi, risparmiare batterie, usiamo processori che hanno solo magari 16 bit, che significa che hanno cosiddetto parallelismo dell'alu e dei registri minore e quindi faranno operazioni su numeri che sono codificati su un numero minore di bit, avranno una versatilità minore, chiaramente possono lavorare su numeri con un range minore, però risparmiano energia, risparmiano area, risparmiano costi. Quindi qui ci sono dei fattori di progetto diversi. Processori più o meno complicati hanno più o meno alu con un parallelismo più o meno grande. Ma il meccanismo di funzionamento è sempre lo stesso. Quindi questa alu, poverina, lei passa la sua vita da quando mettiamo corrente a quando togliamo corrente, ad aspettare che qualcuno dica fai un'operazione e in questo caso dice fai l'operazione tra il registro 8 e il registro 9. In questo esempio qua, di un ipotetico microprocessore, i registri hanno un nome che si chiama dollaro 0, dollaro 1, dollaro 2 fino a dollaro 31. Se prendete un registro, un processore Intel, i registri si chiamano EAX, EBX e CX. EDI e SI hanno dei nomi più di fantasia, più diversi. Ogni processore, guardate il manuale, vi dice quali sono i nomi del registro, da cui poi l'alu prende l'operazione. E il risultato di questa operazione doveva finire, deve salvarlo da qualche parte, se no l'alu ha fatto l'operazione e poi questo risultato viene perso, dimenticato, se no lo salvo da qualche parte. In questo caso mi è stato detto, o meno, qualcuno ha detto all'alu che doveva salvare il risultato nel registro 10, questo qua arancione. E quindi se nel registro verde c'era un 3, nel registro blu quello 8 c'era un 2, alla fine nel registro arancione ci sarà un 5, se io ho detto all'alu di fare l'operazione di somma. Tutto questo, ho detto di prendere questo registro, ho detto di fare questa operazione, sono cose che vengono dette dall'unità di controllo. Tra i registri però c'è uno particolare, uno anomalo, uno strano, che prende il nome del registro dei flag. Allora un flag è un concetto che abbiamo già visto nella programmazione, per noi era una variabile logica, true o false, che ci serviva per ricordare se una certa cosa era successa oppure no. Il concetto continua a essere lo stesso, ma chiaramente qui stiamo parlando di un'implementazione a livello molto molto più basso. il registro dei flag è un registro come gli altri, quindi un insieme di bits, Feggi, 32, quanti saranno, ogni bit ha un suo significato. Quindi quando io prima vi ho detto il risultato dell'operazione viene salvato in un registro, ho detto solo metà della verità. L'altra metà della verità è che quando l'alu fa un'operazione lei salva due risultati. uno il risultato è vero e proprio aritmetico e lo salva nel registro che vuoi tu. E l'altro risultato è l'informazione su com'è andata l'operazione. Questa operazione potrà aver generato overflow oppure no. Il risultato potrà essere positivo oppure negativo. Potrà essere zero o diverso da zero. Potrà essere pari o dispari. Cioè c'è una serie di informazioni che ti dicono non tanto quanto sia il risultato, ma se è successo qualcosa di particolare nel calcolo di quell'operazione. Queste informazioni vengono tutte codificate, ognuna vale un bit, vengono tutte messe insieme in un unico registro per non avere dei bit sparsi in giro. Questo è il registro dei flag, un registro che contiene nel bit zero, bit 1, bit 2, bit 3, non vengono interpretati in binario con le potenze di 2, ma ognuno ha una sua vita, ha un suo significato. Quindi magari un bit del registro dei flag indica se il risultato dell'ultima operazione fatta dall'alu dava zero. Allora quando voi fate in Python if a uguale b, uguale uguale b, cosa state dicendo all'alu? All'alu sta dicendo fammi a meno b, cioè prendimi il valore di a portamelo in un registro, prendi il valore di b portamelo in un altro registro, di all'alu di fare la sottrazione e vai a vedere se l'alu ti dice che il risultato faceva zero. Confronto a uguale b significa che il risultato vale zero. Se io faccio a maggiore di b, lui va a vedere non tanto il risultato, fa la sottrazione tra a e b e si chiede se il risultato era positivo. A minore uguale b, si chiede se il risultato era nullo o negativo. Per sapere queste cose, quindi questi confronti, tutte le volte che ho un if o un why, alla fine c'è un confronto che mi dà informazione booleana, le vado a pescare andando a vedere il registro dei flag, che mi dice se l'ultima operazione era zero, era positiva, era negativa, ha generato un overflow oppure no, eccetera. Quindi ci sono dei casi in cui io faccio l'operazione ma magari non mi interessa solo il risultato, o addirittura non mi interessa per nulla il risultato, mi interessa solamente l'esito dell'operazione. Quali flag ha impostato? Quindi ogni operazione, se vogliamo ricordarcelo così, ha due risultati, il valore numerico e una serie di flag che dicono com'è andato il calcolo. I tre più importanti sono questi, lo zero, il segno e l'overflow. Ma tipicamente poi ci sono altri, tra l'altro l'overflow normalmente ce ne sono due diversi perché come sappiamo tutti noi l'overflow in caso del binario puro si calcola in un modo, nel caso del complemento 2 si calcola in un modo diverso. Poiché l'alu non sa che operazione stiamo facendo, lei dice guarda ti metto due flag, uno rappresenta il caso in cui se il numero fosse stato in complemento 2 ci sarebbe stato overflow, l'altro rappresenta, normalmente si chiama carry, il riporto, se i numeri fossero stati codificati in binario puro ci sarebbe stato overflow oppure no. Lei non sa che cosa stiamo facendo, lei esegue e mi mette a disposizione le informazioni. Sono io che ho dato i numeri, so che devo andare a leggere B di overflow o B di carry a seconda che i numeri su cui stavo operando fossero in complemento 2 o in binario puro. Quindi questi registri normalmente appunto contengono dei dati tranne il registro di flag. E tutta questa unità operativa quindi è lì in attesa di comandi, come la calcolatrice vostra da 5 euro, l'avete comprata, l'avete accesa, ma finché non pigiate i tasti lei non fa nulla. E chi è che pigia i tasti? L'unità di controllo. L'unità di controllo è quella che decide, lei sembra che comandi, poi alla fine ci accorgeremo che non sta comandando niente, ma anche lei a sua volta eseguendo le istruzioni. Ma dal punto di vista dell'unità operativa lei comanda. Decide quali operazioni, qui è bello, è un'operazione da eseguire, ma non è che da eseguire, è l'alu che la deve eseguire, non è che qualcuno in generale deve eseguire. Quando avete un vostro amico dice adesso facciamo questa cosa, poi lui dice facciamo ma tu capisci che la devi fare tu. Ecco, è la stessa cosa qua. L'unità di controllo decide, ma poi l'unità operativa esegue secondo gli ordini che arrivano dall'unità di controllo. Quindi se noi facciamo uno zoom questa volta dentro l'unità di controllo, vediamo che questa parla, si collega con l'unità operativa, questa freccia qua, che va verso l'unità operativa, è esplosa, zoomata in queste due frecce, una che esce e una che entra. quella che esce sono i comandi. Che operazioni devi fare? Qual registro devi prendere come operando uno? Qual registro devi prendere come operando due? Dove mette il risultato? Alla fine sono queste quattro cose qua. E cosa torna indietro? questo che genericamente è chiamato stato, che alla fine altro non è che il registro dei flag. Cioè l'unità di controllo non interessa, non potrà mai sapere il valore della... Non ci sono registri qua, l'unità di controllo. Non ci sono dati. Ci sono registri, scusate, ma non ci sono dei dati. L'unità di controllo non saprà mai se il risultato dell'operazione era 7 oppure 11. non interessa, ma sa se c'è stato un overflow oppure no. Questo le può interessare. Quindi l'unica informazione che arriva indietro dall'unità operativa verso l'unità di controllo alla fine è il valore dei flag, che sono relativi al risultato dell'ultima operazione che ha fatto l'unità rimenticologica. I flag si ricordano solo l'ultima operazione. Poi normalmente l'unità di controllo può fregarsi di questi flag e dico ok, il risultato era 0, ma chi se frega? Oppure magari gli serve sapere se il risultato era 0 o no a seconda dell'istruzione che sta eseguendo e lo vediamo. Quindi l'unità di controllo è quella parte che dà i comandi, aspetta che l'unità operativa esegua questi comandi e si legge lo stato dell'operazione avvenuta. Come fa a sua volta l'unità di controllo a sapere quali comandi dare. L'unità di controllo non lo sa quali comandi dare, ma va a leggere il software che abbiamo scritto nel calcolatore e si fa dire dal software quali comandi essa debba dare. Quindi se nel nostro programma c'è scritto a più 1, allora l'unità di controllo saprà che deve fare una somma tra un dato che è memorizzato come a in una certa cella di memoria e la costante 1. Allora fare in modo di prendere il dato a, metterlo in un registro, la costante 1 in un altro registro, comandando queste singole operazioni di coppia di dati all'unità operativa e poi dire all'operativa fai la somma, prendi il risultato e metterlo da qualche parte. Quindi l'unità di controllo prende un'istruzione che abbiamo scritto e la converte in una serie di piccoli passaggi atomici che l'unità operativa è in grado di eseguire da sola. Se devo incrementare il valore di una cella di memoria, devo prendere il valore di questa cella, portarlo in un registro, prenderla a costante 1, mettere in un altro registro, di un'unità armetica fai somma e mette il risultato in un registro, questo registro dovrà a sua volta essere salvato in memoria. Per dire quello che noi diciamo con un'operazione unica, incrementa una variabile, questo richiede almeno 1, 2, 3, 4 passaggi. Questo è ciò che fa l'unità di controllo. Prende un'istruzione alla volta, di quelle che abbiamo scritto noi, poi non le prende in Python, c'è ancora un livello in mezzo, ma prende un'istruzione alla volta e la decompone attraverso questo blocco qua che si chiama logica di controllo, decompone un'istruzione in operazioni elementari, operazioni che vengono seguiti dall'unità operativa. Quindi devono riuscire a scendere al livello di operazioni le quali siano eseguibili atomicamente dall'unità operativa. L'unità operativa da sola fa operazioni troppo stupide, normalmente un'istruzione di un programma richiede diverse operazioni, diversi passaggi dell'unità operativa. E quindi questa logica di controllo lavora sapendo le istruzioni del programma che deve eseguire. Da qualche parte in memoria, nella memoria del mio computer, a questo punto entra in gioco la memoria, ci sta scritto il programma, un'istruzione dopo l'altra, una cella di memoria dopo l'altra. Allora l'unità di controllo cosa fa? Va a leggere la prima istruzione, vede che cos'è questa istruzione, la decompone in passaggi elementari e da all'unità operativa questi passaggi elementari da eseguire. quando ha finito questo, l'unità di controllo passa a leggere la seconda istruzione, vede che cos'è questa istruzione, la decompone in passaggi elementari e dai comandi dell'unità operativa per eseguirla. Quando ha finito, l'unità di controllo passa alla terza istruzione, vede che cos'è, la decompone in passaggi elementari, io potrei andare avanti un'ora, da quando l'accendete fa questo. L'unità di controllo che è il pezzo più intelligente del vostro computer, da quando l'accendete, cicla all'infinito su queste tre fasi. Cosa fa? Innanzitutto per dire, leggo la prima, la seconda, la terza, la quarta istruzione, deve sapere dove sono queste istruzioni. Deve sapere l'indirizzo della cella di memoria che contiene il programma che stiamo eseguendo. O meglio, che contiene l'istruzione specifica che stiamo eseguendo all'interno del nostro programma. C'è un registro all'interno del controllo, solo due registri. Uno serve per ricordarsi l'indirizzo di memoria dove sta la prossima istruzione che devo eseguire. accendendo il computer quella roba lì vale zero. Allora lui la prima cosa che farà sarà di provare ad eseguire l'istruzione che sta nella cella di memoria numero zero. Quello fa. A seconda di cosa c'è scritto in quella cella farà cose, poi passarla uno, poi passarla due e così via. E come fa? Beh, quando lui dice ha un indirizzo di memoria, PC sta per program counter, contattore di programma, indirizzo del programma, contiene un indirizzo di memoria. Contiene l'indirizzo della memoria della cella di memoria dentro cui è salvata la prossima istruzione da eseguire. L'unità di controllo non lo sa. Sa che è l'indirizzo 1000, ma non sa cosa c'è dentro. Allora cosa fa l'unità di controllo? Comanda. Lei piace comandare. Comanda la memoria, dammi il dato che hai l'indirizzo 1000. Prima fase. Dicevo che l'unità di controllo fa tre cose continuamente per la sua vita. La prima fase è chiedere alla memoria di dargli la prossima istruzione. io so a che indirizzo sta la prossima istruzione, 1000, memoria, dammi il valore che c'è scritto all'indirizzo 1000, nella cella numero 1000. A questo punto la memoria restituisce un valore che sarà codificato con dei bit che codificheranno un'istruzione opportuna. Non entriamo in questo corso nella codifica delle istruzioni. Sappiamo solo che sono codificate in binario, quindi una certa codifica binaria significa la somma, un'altra significa la sottrazione e così via. E questa è una sequenza di bit che viene salvata in un altro registro dell'unità di controllo che viene chiamato registro dell'istruzione, con tanta fantasia. registro nel quale salvo il valore binario della prossima istruzione da eseguire. Quindi la prima fase, CPU dice alla memoria dammi una cella di memoria, dammi il contenuto della cella di memoria a questo indirizzo perché questa è la prossima istruzione che devo eseguire. La memoria obbedisce, perché l'unità di controllo non si può fare se non obbedire, e restituisce un dato. L'unità di controllo analizza questo dato, lo riceve, lo memorizza in suo registro e lo analizza e lo dà in passo alla logica di controllo. La logica di controllo abbiamo detto che prende questa istruzione e la decompone in comandi da dare all'unità operativa. Quindi la prima fase, tre fasi della CPU. La prima fase è data un'istruzione, leggi il valore dell'istruzione. Data un indirizzo, leggi il valore dell'istruzione che giate a quell'indirizzo di memoria. Fase di recupero dell'istruzione, in inglese fetch, poi c'è scritto. Seconda fase, una volta che ho l'istruzione decodifichela e decomponila in operazioni elementari. Di fatto è una serie di tabelle di conversione che sono dentro quel blocco blu. Terza fase, lascia che l'unità operativa lavori. Prima fase, recupero dell'istruzione, fetch. Seconda fase, decodifica dell'istruzione, decode. Terza fase, esecuzione dell'istruzione. Che fa figo dire che l'unità di controllo è come terza fase dell'esecuzione, ma in realtà l'esecuzione la fa l'unità operativa. Per l'unità di controllo l'esecuzione significa adesso aspetto. Aspetto che l'unità di controllo, l'unità operativa abbia finito. Quindi queste sono le tre micro operazioni che vengono fatte alla nausea, miliardi di volte al secondo, dentro la nostra unità di controllo. Quello che crede di comandare tutti, ma in realtà lui è vincolato. Sempre, anche quando il computer non fa niente, lui sta comunque facendo questa cosa qua. Sta leggendo ripetitualmente un'istruzione che gli dice non far nulla. Non far far nulla all'unità operativa, perché lui comunque non fa. Quindi la fase di fetch, cosa fa? Prende il program counter, lo manda alla memoria e si fa dare la memoria all'istruzione e la salva dentro l'instructional register. Decodifica, prende il valore che ha appena ricevuto l'instructional register. non lo poteva fare prima, perché prima non lo sapeva l'istruzione. Prima devo leggerla e poi la decodifico. E quindi ha una serie di comandi, potrebbero essere uno o più comandi a seconda di quanto è complicata l'istruzione rispetto alle capacità atomiche dell'unità operativa. E poi nella fase di esecuzione dice all'unità operativa di fare le cose che deve fare. fatto questo ricomincia con la fase di istruzione successiva. Nel frattempo però il program counter non può rimanere lo stesso, perché altrimenti continuerebbe a eseguire sempre la prima istruzione. Allora internamente cosa fa l'unità di controllo? Appena ha letto un valore della memoria incrementa il program counter, in modo che la prossima istruzione che legge sia non la 1, ma la 2, ma poi la 3, poi la 4 e così via. Quindi a meno che l'esecuzione non abbia a sua volta cambiato il valore del program counter, il fatto che un programma che scriviamo venga eseguito in ordine sequenziale, la prima, seconda, terza, quattro istruzioni in ordine, sta tutta qua dentro. Perché ogni volta che l'unità di controllo legge una cellula di memoria incrementa di 1 il program counter e quindi passa all'istruzione successiva in memoria. Tutte le volte che c'è un caso in cui l'istruzione non prosegue sequenzialmente, o un if, o un while or, o una chiamata a funzione, o un'eccezione, in tutti i casi in cui la prossima istruzione che viene eseguita non è quella che è scritta dopo, significa che nel frattempo, nella file di execute, qualcuno ha modificato il program counter. Dicendo adesso, beh, non devi più eseguire l'istruzione più 1, ma devi eseguire l'istruzione 2300. E vabbè, cambio il valore del program counter, al prossimo ciclo di fetch, l'unità di controllo dice, ok, leggo la cellula di memoria, ho detto prima, 3200, anziché più 1 rispetto a quella precedente, ma noi non se ne accorge mica. Quindi, sono tutti blocchi al limite dell'idiozia, come tipo di operazioni che vengono fatte. Lo del controllo ha due registri, la capacità di leggere un dato della memoria, incrementare un registro e poi l'unica cosa un pochino complicata è la decodifica, che è data un'istruzione, ma le istruzioni sono finite, un processore avrà 200 istruzioni diverse. Ogni istruzione si decodifica sempre nello stesso modo. Quindi, se avessi un foglio a quadretti abbastanza grande, potremmo scrivere tutte. Non è tanto il CPU che lo fa, è il progettista dell'unità di controllo che ha fatto questo lavoro. E poi manda i comandi all'unità operativa. L'unità operativa fa, velocemente, per carità, le operazioni che abbiamo imparato a fare a mano qualche settimana fa nel corso. Il tutto funziona solo se nella memoria ci sta scritto un programma sensato. Nella cella di memoria 1, 2, 3, 4, 5 ci sono via via le istruzioni che, messe in fila, fanno qualcosa di utile. Altrimenti, questa CPU starà eseguendo cose a caso, no? Vabbè, questo è semplicemente un esempio in cui fa vedere che un'istruzione dopo l'altra, questa potrebbe essere la memoria che contiene il nostro programma, questo al fianco sono gli indirizzi delle cellule di memoria, adesso entriamo un po' in dettaglio su come è fatta la memoria, e questo sono il contenuto della cellula di memoria. L'indirizzo, immaginatelo come una lista, no? È l'umero d'ordine della cellula di memoria. Il contenuto è il valore che è contenuto dentro. Il contenuto della memoria è una codifica binaria che rappresenta un'istruzione da eseguire. codifica binaria che capisce solo la logica di controllo. È l'unica che deve capirlo. All'interno dell'unità di controllo. E quindi tutto ciò che abbiamo imparato ad alto livello, con i flowcharts, con Python, alla fine lo vediamo concretamente. Tutte le operazioni aritmetiche tra numeri interi è qualcosa che fa l'alu. Tutte le operazioni aritmetiche tra numeri reali è qualcosa che fa la floating point unit. Tutte le operazioni end or not, le operazioni logiche le fa anche l'alu, perché i valori booleani sono trattati come valori interi. Tutti i confronti sono alla fine sottrazioni che vengono dentro l'alu. e tutte le volte che leggiamo, scriviamo un dato, chiamiamo delle variabili con dei nomi, stiamo scrivendo dei dati dentro la memoria, che poi trasiteranno dentro il GIS. E tutte le volte che scriviamo un if, un while, un for, qui non c'è nello slide, stiamo manipolando il valore del program counter per farlo andare avanti in modo non sequenziale, ma farlo saltare di qua o di là. Questo è alla fine il cuore della CPU. Sarebbe carino se avessimo tempo e se avessimo magari otto anni farla la CPU. Nel senso di avere una persona che faccia l'alu, una persona che faccia il registro, una persona che faccia l'unità di controllo e si passano le informazioni sui biglietti, si vede subito che si può tranquillamente in due ore uno riesce a fare un'operazione tipo somma di dieci numeri da uno a dieci, avendo le istruzioni dopo l'altro. La cosa carina è che tu riesci a dare il programma a questo gruppo di persone che fa le cose senza che sia necessario che queste persone capiscono che cosa fa il programma, perché eseguono un'istruzione per volta senza sapere a cosa serve. La eseguono perché c'è scritto di far quello e lo fai. Ma purtroppo alla vostra età non vi potete più divertire, la vita è abbastanza cattiva nei vostri confronti. Ok, finora abbiamo parlato delle cose, della sequenza di operazioni ordinate, la sequenza ordinate di operazioni. L'unità di controllo fa il fetch, la memoria tira su il dato, l'unità di controllo decodifica attraverso la sua logica di controllo, manda i comandi all'unità operativa, dall'altra parte dell'unità operativa prende il dato dal registro, lo elabora, eccetera, eccetera. E poi tutto il ciclo ricomincia da capo. Questo ciclo in qualche modo viene sincronizzato, temporizzato, da un segnale reale, la forma d'onda è reale, un segnale interno al calcolatore che prende il nome di orologio, di clock, che è quello che dà il tempo a tutte le operazioni interne al calcolatore. Quindi, quando io ho detto incremento il program counter di uno, vuol dire che in un certo periodo, in un certo istante di tempo, avviene quell'operazione lì, incremento il program counter. Quando dico decodifico l'istruzione, vuol dire che in uno o due, praticamente una, intervallo di tempo, avviene quell'operazione. Quel tempo è dedicato a fare quello. Per avere ordine nell'operazione nel calcolatore, io devo avere in ogni istante di tempo sapere che cosa faccio. Quando vi ho detto prima, non posso decodificare l'istruzione prima di averla letta. E poi il circuito che decodifica, come fa a saperlo? Se l'ho già letta o no? C'è il segnale di clock che dà i tempi. In questo ciclo di clock, divide il tempo in una serie di cassetti. di periodi. Ok? In questo periodo di tempo leggo il dato della memoria. In quello successivo decodifico il dato. Nei sette successivi la unità operativa esegue gli ordini. E poi ricomincio da capo. Quindi questo segnale arriva a tutti i componenti del calcolatore, la unità di controllo, la unità operativa, ai registi, eccetera, in modo che tutti sappiano quando è la loro ora di muoversi. E questo è un segnale periodico, con periodicità fissa. Possiamo misurarlo in termini di periodo, in nanosecondi, o in termini di frequenza, in gigahertz. E questo è il segnale che temporizza tutto il lavoro del calcolatore. Adesso noi abbiamo delle CPU moderne che lavorano, quelle sui PC, lavorano sui 3 gigahertz. Vuol dire che questo segnale di clock, 3 miliardi di volte al secondo, da qualcosa da fare a qualcuno. Poi, se il calcolatore va in risparmio energetico, allora c'è un circuito che rallenta il clock. Allora non va più a 3 giga, va a 2,5, 2, 1,8. Il computer continua a fare le stesse cose, consuma meno energia. Poi tu cominci a giocarci, a farci qualche cosa, allora il circuito si accorge, accelera di nuovo il clock, in modo che il calcolatore risponda un po' più velocemente quando serve e un po' meno velocemente quando non serve. Questa è tutta la logica di risparmio energetico e di dissipazione termica. Quindi i componenti all'interno di un computer vanno veloci quanto il clock ci dice di andare. Oh, finchè ce la fanno, non è che posso dire ah, adesso mettiamo un clock a 10 gigahertz qua dentro. Si, poi c'è puzza di fumo, poi. Eh, non ce la fa. C'è chi fa, sai, sentite in giro chi fa l'overclocking, no? Del proprio computer. Può essere, perché è pro. Allora, poi il problema è aumentare un pochino il clock finchè il computer non comincia a sbagliare. Perché se tu alzi troppo la frequenza del clock, poi la ALU non ce la fa. Se lei ce la fa a fare un calco in due nanosecondi e tu gli devi fare arrivare un clock nuovo a 1,9 nanosecondi magari il dato ce l'ha pronto. Magari non ce l'ha pronto, allora ti legge un dato che è solo parzialmente completo, non ha ancora finito di fare le somme dei bit. Quindi non è che posso andare oltre le capacità tecnologiche del circuito. però questo mi dà la misura sia della velocità di elaborazione sia poi della temporizzazione delle operazioni. Quindi tutte le operazioni all'interno della CPU si misurano non tanto in nanosecondi ma in cicli di clock. Quindi tipicamente nell'età metodicologica è fatta in modo da rispondere a un ciclo di clock. Le sue operazioni sono semplici. Numeri interi, confronti, somme, sottazioni, via. Mi serve un clock per dare il risultato. L'unità floating point magari ha bisogno di più. Mi chiedo di farmi un logaritmo di un numero in doppia precisione. Calmino, eh? Devo prendere l'esponente, la mantissa, fare le somme, sottazioni, fare un po' di operazioni che non possono essere fatte tutte in un colpo solo. Mi serve più tempo, e va bene. So che l'unità floating point mi risponderà non tra un ciclo di clock ma tra, qui c'è scritto 15 come numero indicativo, non prendetelo come valore assoluto. Quando leggo un dato della memoria, anche questa, la memoria, poverina, è più lenta rispetto alla CPU. Se per una CPU parliamo di un clock dell'ordine di qualche gigahertz, per le memorie parliamo dell'ordine di centinaia di megahertz. Avete la memoria di 266 megahertz, c'è scritto sulle memorie? No, quando l'hai comprata. Vuol dire che è dieci volte più lenta. Vuol dire che ogni volta che io ho bisogno di un dato della memoria, la memoria risponde magari in un ciclo di clock, del suo clock che è più lento del mio. E quindi io aspetto. Qui c'è scritto 5 che è ottimistico. Valori reali sono dell'ordine di 50 o di più. Cicli di clock in cui la CPU deve aspettare perché la memoria dal suo punto di vista è lenta, perché va con un clock più lento. E allora, questo va. Per azione di input output, devo mandare qualcosa a video, eccetera, ancora più lento, perché devo andare a un periferico esterno, salvare su disco milioni di cicli di clock. Milioni. Quando noi salviamo qualcosa su disco, su chiavetta, parliamo di millisecondi. Quando parliamo del clock della CPU parliamo di nanosecondi. Tra nano e milli c'è ancora micro in mezzo, eh? Quindi milioni non è un'esagerazione. Salvare un dato in un registro è uno. Salvare un dato in memoria è 10, 50 come tempo. Salvare il dato su disco è un milione. Quindi quando siamo in questi programmini e dico ma perché hai letto il file tre volte? Non potevi leggere una volta solo a ricordartelo? Ecco, c'è quel milione lì che mi vale in testa. Di tempo spero. E quindi a seconda del programma che dobbiamo fare, a seconda delle operazioni che fa là, impiegarà un certo tempo, no? Se noi avessimo un programma che dice ho un processore che lavora con un clock di 1 GHz, cioè un periodo di nanosecondo, ho messo uno per fare i conti facili. E avessi un programma di un milione di istruzioni? Oh, non vuol dire che il programma ha un milione di righe, eh? Vuol dire che magari ci sono dei cicli che fanno sì che un'istruzione venga ripetuta tante volte e in totale ne devo fare un milione. Perché scrivere un milione di righe di codice passa un po' le voglie. E qualcuno mi dice che la CPU ci mette mediamente quattro cicli di clock per ogni istruzione. non può mettercene uno, ce ne mette di più. E uno mi ne va per il fetch, uno per la decodifica, uno per l'alu, farebbero tre, però magari non tutte le operazioni riesco a completare in un ciclo di clock perché alcune magari sono floating point. E' un valore medio, no? Che viene detto a seconda del mix di istruzioni che faccio avrò, dice, mediamente quattro cicli di clock per ogni istruzione. poi vabbè, lì c'è scritto anche che quattro cicli di clock valgono quattro non secondi. E basta prendere il numero di cicli e moltiplicarlo per il periodo. Allora cosa fa questo programma? Questo programma esegue, ovviamente sbagliato, esegue un milione di istruzioni spendendo quattro nanosecondi per ogni istruzione e quindi alla fine in totale ha speso quattro millisecondi. Ok? Perché un milione, se io ho mille nanosecondi fa un microsecondo, un milione di nanosecondi fa un millisecondo. Ok? Nano sono 10 alla meno 9, milli sono 10 alla meno 3, la differenza è 10 alla sesta. E quant'è un milione di istruzioni? È tanto o poco? Cosa faccio con un milione di istruzioni? Vado su Marte? O faccio la somma dei primi cinque numeri interi? Quando facciamo i programmini che calcoliamo dimmi se questo è il numero primo, quante istruzioni c'erano sotto? Non sappiamo. Però dipende anche dal tipo di algoritmo che implementiamo. Ad esempio qualcuno mi dice guarda tu hai dei numeri, sempre il tuo calcolatore ha un gigahertz, e vuoi ordinarli, no? Allora sort è un algoritmo che comunque tu lo implementi alla fine deve andare a confrontare coppie di valori. Quindi se hai n valori, lui dovrà fare n per n-1 confronti, ciascuno con tutti gli altri, più o meno, poi si può ottimizzare di più o di meno, ma... Quindi avrà un numero di operazioni da fare che sarà più o meno dell'ordine proporzionale a n quadro. E allora se qui dice supponiamo di avere due cicli per istruzione, quindi operazioni semplici, un processore più ottimizzato che usa meno cicli clock per eseguire un'istruzione, poi il trucco che usano le più moderne per abbassare il numero di cicli per istruzione, sapete qual è? Avere più unità di metodologica in parallelo. Tu fai un contro, tu ne fai un altro, tu magari ci metti sempre due clock, ma essendocene in due la media fa uno, no? Vi dividete il lavoro così. Cosiddetti processori superscalari, che fanno più operazioni, più di un'operazione per ciclo di clock. Tutti trucchi architetturali per andare più veloce, ma il principio continua a essere sempre lo stesso. Ordinare mille valori, un milione di valori, quindi ho una lista di un milione di elementi, devo fare sort, e se il mio algoritmo di ordinamento fa tutti i confronti, alla fine deve fare 10 alla 6, per 10 alla 6 operazioni. Il uniforme di 10 alla 12, con il processore a 2 nanosecondi, che è già il doppio veloce di quello della slide precedente, anziché con un'operazione che prima... prima ho detto, fammi la somma, o il max, o il min, di un milione di numeri. Ok, 4 millisecondi è fatto. Fammi un sort di un milione di numeri, mezz'ora. cioè ciò che conta, sì, è la velocità della CPU, ma di più è la complessità dell'algoritmo. Ci sono algoritmi che hanno una complessità lineare, la somma, il massimo, il minimo, stampa, leggi, ogni dato lo tocco una volta sola. E quindi se io avessi un computer con una certa prestazione, una potenza P, e Babbo Natale mi ha portato un computer con una potenza mille volte P, Babbo Natale di quelli seri, e quindi, allora se con il mio computer di prima riuscivo a risolvere un problema di una certa dimensione n, e questo problema era risolubile tramite un algoritmo di complessità lineare, allora vorrei dire che col computer nuovo risolverò problemi che sono mille volte più grandi a parità di tempo. Se invece io avessi un problema che cresce, la cui complessità tipo il sort cresce con una complessità quadratica, con il numero di elementi, col computer nuovo riuscirò a fare il sort solamente di sequenze di numeri che sono 30 volte più grandi la radice quadrata di mille. Cioè un computer mille volte più potenti ma non mi permette di risolvere problemi mille volte più grandi o mille volte più difficili. ovviamente man mano che aumenta la potenza. Qui c'è scritto n log n che è una funzione strana, sapete tutto, più di media è n log n come funzione, come livello di infinitesimo, di infinito, perdon. È citato tra tutte le funzioni possibili perché è una funzione che normalmente rappresenta la complessità degli algoritmi di ordinamento ottimizzati. quindi n 4 è un algoritmo di ordinamento scemo che ci possiamo inventare noi, è uno più ottimizzato che studierete l'anno prossimo quando fate algoritmi strutture dati, ha una complessità di tipo n log n e quindi vi permette di affrontare un problema che è magari 300 volte più grande e non solo 30 volte più grande. E questo è il motivo per cui c'è gente che ha studiato una vita, vent'anni, per ottimizzare gli algoritmi di ordinamento. e poi ci sono tanti problemi che sono quasi tutti problemi di ricerca, di ottimizzazione, trovare l'ottimo di, trovare la soluzione migliore tra fare un orario del Politecnico che sia decente è un problema di ottimizzazione che hanno tipicamente una complessità bastarda dell'ordine esponenziale, di tipo esponenziale. Che cosa ti mi dici una complessità esponenziale? Mi dice che se faccio i conti che se io prendo un computer ero capace a fare, che ne so, un orario con 100 classi, prendendo un computer mille volte più potente riuscirò a fare un orario con 110 classi. Non il doppio, perché l'esponenziale, poverino, si trasformano in una somma, i prodotti si trasformano in una somma. Quindi questo per mille è diventato più il logaritmo di mille. e quindi ci sono molti problemi che non sono affrontabili a prescindere dalla potenza di calcolo che avete. Se avete un computer mille volte più potente, un milione di volte più potente, forse un milione di volte più potente, sarà n più 18. Quindi vuol dire che è un muro esponenziale, no? Lo disegniamo tutto quello carino fighetto, ma alla fine se lo guardate è un muro. Quel muro non si oltrepassa. Se no, non si oltrepassa con la potenza di calcolo, si oltrepassa con l'intelligenza, con gli algoritmi migliori, con affrontare problemi da punti di vista diversi e così via. Ok, questo era il punto di vista degli algoritmi, della relazione che c'è tra algoritmo e tempo di esecuzione. Chi abbiamo lasciato da parte finora è la memoria, che finora ci è servita a memorizzare il programma. La memoria, poverina, tra tutti gli elementi di oggi è quello che è il nome più semplice. La memoria memorizza i dati. Cosa memorizza? Il programma. A chi serve il programma? All'unità di controllo, che lo indicizza col program counter e ne legge i valori dentro l'instruction register. Ma poi nella memoria ci stanno anche i dati. A uguale 3, questo A non cade dall'Olimpo. A corrisponderà a una certa cellula di memoria che è un certo indirizzo. Quindi la stessa memoria la potete vedere come un insieme di cassetti, un insieme di posizioni, ciascuna delle quali contiene un dato e questi dati possono essere o istruzioni o dati. Questo per quanto riguarda la memoria centrale, quella che c'è dentro il computer. in realtà quando si parla di memoria, spesso si parla di memorie al plurale, perché ci sono vari tipi di memoria all'interno del calcolatore. Il concetto generale è quello dei cassetti. Ogni cassetto, ogni cella ha un indirizzo e a quell'indirizzo trova un certo contenuto. però la memoria centrale del calcolatore ha un piccolo difetto. Quando voi comprate un computer questo ha due difetti principali. Il primo è che costa. Voi comprate un computer, già spendendo bene, aveva magari 32 giga di RAM, di memoria RAM. La memoria RAM è la sigla che si usa per la memoria centrale. può un fine. Di più costa. Allora, magari ci serve, abbiamo bisogno di memorizzare dei programmi, dei dati che lungo tutta la vita del computer che usiamo sono più grandi. Ecco, 32 giga, quanti film ci salvo? Pochi. Allora, mi servirà memoria più grande senza però spendere un capitale. Quindi mi serviranno tipi di memoria diversi. Più capienti ma meno costose oppure più veloci. Magari anche, ok, più capienti ma meno costose sarà più lenta. E va bene, pazienza. E un'altra memoria magari più veloce è più costosa e quindi ne metterò di meno se costa di più. Quindi un difetto della memoria centrale che costa. L'altro difetto della memoria centrale è che se io stacco la spina perde tutti i contenuti. Dimenticherebbe tutto il computer. Come facciamo? Perché il computer quando lo spengo poi non si dimentica tutto e riparte, riparte, si riavvia? E' perché il sistema operativo, i programmi, i dati li ho salvati su una memoria di massa, come si dice. C'è una memoria, un disco, un disco stato solido, un disco fisico, una chiavetta, eccetera, che è una memoria permanente. Quindi abbiamo tante caratteristiche diverse di memoria, poi torno indietro su quella che ho saltato, che riferiscono in termini di capacità, quanti dati posso memorizzare, di velocità, di costo e di volatilità. volatilità, cioè il fatto che se sta con la corrente i dati li perdo oppure no. E servono tutte queste tipologie di memoria, una più veloce, una più lenta. Non c'è nessuno che vuole una memoria più lenta. Ma se, a parità di costo, per avere una memoria più grande, più capiente, mi devo contentare di una più lenta, mi accontento. il budget non sono infiniti. Quindi una memoria che sia perfetta da tutti i punti di vista, velocissima, grandissima, permanente e non costosa, non esiste. E quindi dentro il calcolatore abbiamo una molteplicità di memorie, la più importante è la memoria principale, la cosiddetta memoria RAM, che però è limitata in termini di costo e quindi di solito è accompagnata dalla memoria secondaria, la memoria di massa, gli hard disk, dischi ssd, eccetera, che memorizzano i dati in modo permanente. Allora, se la memoria principale, quando comprate computer, è di 32 giga, la memoria di massa è di 2 terabyte, tipicamente, uno o due terabyte di memoria. Da giga a tera c'è un fattore mille. Ok? Poi comprate un modulino di memoria, di RAM da 16 giga, vi costa 80 euro. Comprate un ssd, un disco da un terabyte, ti costa 100 euro. Ma è grosso a 100 volte tanto. Poi andate a vedere, il tempo di accesso, da una parte è millisecondi e dall'altra è microsecondi. E quindi mille volte più lento. Ci sta tutto. Si posiziona, i vari tipi di memoria si posizionano in punti diversi in quello spazio di compromesso di trade off che coinvolge la capacità, il costo e la velocità d'accesso. Quindi le due memorie principali sono la memoria di massa in cui salviamo le cose e la memoria centrale che contiene i programmi e i dati su cui il programma sta lavorando. La memoria di massa è troppo lenta, la CPU non la potrà mai toccare. Non potrà lavorare su dati che sono salvati su disco. Prima mi devo leggere in memoria. Quando facciamo open del file e leggiamo, stiamo copiando le memorie dei dati che già ci sono su disco. Ma me li porto in memoria perché su disco sarebbe troppo lenti. E quindi la CPU può lavorare sui dati che sono nella memoria principale. Ma questa memoria principale è troppo... La velocità della memoria principale negli anni è cresciuta molto più lentamente della velocità di clock della CPU. Se torniamo agli anni 80, i primi personal computer funzionavano così. CPU, memoria centrale. Come il primo disegno che abbiamo visto oggi. Clock circa 4 MHz. Non giga, eh. MHz. Mille volte più lenti dei computer di oggi. Stesso clock per la CPU e per la memoria. Poca è successo. Avanti la tecnologia, la velocità della memoria oggi è arrivata a centinaia di MHz. La velocità della CPU è arrivata a migliaia di MHz. Stiamo parlando di GHz. Dieci volte di più. Allora cosa è successo? Che io avevo CPU sempre più veloci le quali passavano una percentuale del proprio tempo sempre maggiore ad aspettare che la memoria rispondesse. La memoria era più veloce, ma era comunque dieci volte più lente della CPU. E quindi tu avevi una CPU velocissima, aveva un clock dieci volte più veloce di quello della memoria ma faceva un'operazione e poi stava ferma nove cicli clock. Poi faceva un'altra operazione e stava ferma altri nove cicli clock aspettando il dato della memoria. E non puoi andare avanti così. A cosa serve avere una CPU così veloce che il 90% del tempo sta fermo? Allora si sono inventati le memorie cache che sono delle memorie più piccole ma più veloci sono delle memorie tampone che stanno tra la memoria principale e la CPU. Di solito c'è la cache di primo e secondo livello fanno la stessa cosa ma quella di primo livello è direttamente sullo stesso circuito che contiene il microprocessore dicevo prima c'era spazio e quindi ci mettiamo un po' di memoria la cache di secondo livello è sulla scheda madre quindi ha più spazio può costare di meno ma è anche un po' più lento. Cosa fanno queste memorie cache? Si memorizzano i dati più recenti con cui ho lavorato dalla memoria centrale in modo che se la CPU avrà di nuovo bisogno dello stesso dato o un dato vicino a quello che ho appena letto se lo trova nel memoria cache e che è veloce risponde in uno due cicli di clock è sullo microprocessore e non deve aspettare i 10-20 cicli clock della memoria centrale. E' un po' come quando voi studiate avete i vostri libri nella libreria ma i libri che vi servono per studiare questa materia ce li avete sul tavolo il tavolo è la cache apro il libro e ce l'ho qua poi se devo cambiare materia devo prendere sui libri mettere in libreria prendo gli altri e li porto sul tavolo allora lì perdo tempo ma poi dopo per un po' lavorerò sui stessi libri nuovi e quindi lavoro su dati che ho in cache ad accesso rapido. Questo trucco cosa fa sì? Fa sì che la CPU si illude di lavorare con una memoria che è veloce quanto la cache di primo livello quindi veloce come lei e capiente quanto la memoria centrale perché c'è questo travaso di dati qua che capita dietro le quinte la CPU non se ne accorge e quindi lei può accedere a qualunque dato della memoria centrale questo dato poi viene ricopiato nella cache e quindi è accessibile velocemente la prima volta sarà lento e l'altra volta sarà veloce quindi un sistema ben dimensionato la CPU lavora come se avesse grazie a questa che si chiama gerarchia di memorie la CPU lavora come se avesse una memoria grande quanto la memoria centrale e veloce quanto la cache di primo livello cioè quanto il processore stesso poi in realtà di mezzo ci si mette anche il sistema operativo e i meccanismi noi non studiamo il sistema operativo in questo corso con i meccanismi di memoria virtuale che fa apparire la memoria centrale grande quanto l'intero hard disk però quello è un meccanismo già più complicato che non è implementato a livello hardware ma a livello di sistema operativo qui c'è un elenco di quelle che sono le gerarchie di memoria le più veloci le più vicine alla CPU chi sono? i registri sono incollati alla ALU poi ce l'ha chiesto il primo livello ha chiesto il secondo livello memoria centrale e la memoria di massa che appunto sono le memorie esterne gli hard disk memoria del soldo eccetera poi qua sono un po' scritte le cose che abbiamo raccontato al giorno d'oggi al giorno d'oggi quando si parla di memoria di massa si parla principalmente di dischi SSD lo detto SSD sta per solid state disk vuol dire dischi fatti allo stato solido e in un altro modo per dire con tecnologia elettronica mentre invece i vecchi hard disk che stanno via via scomparendo se non per soluzioni con grande capacità perché continuano a costare meno gli hard disk degli SSD ed essere molto più grandi quindi un hard disk normalmente ordine dai 4 tera in su lo compri un SSD uno, due poi cominciano a pesare sul portafoglio cominciano ad essere e sono più lenti perché sono basati su tecnologia meccanica effettivamente dei dischi che girano con una testina che li legge eccetera eccetera quindi come consumo energetico come tempo d'accesso sono più lenti ma sono entrambi delle categorie della memoria di massa e qui c'è un piccolo confronto di quello che potrebbero essere vari tipi di memorie con le loro caratteristiche all'interno del calcolatore fanno tutto lo stesso lavoro eh, ricordiamocelo dato un indirizzo mi dai un dato ognuna però ha delle caratteristiche di tempo, velocità e persistenza diverse e ha senso che lavorino tutte insieme in un sistema ben bilanciato quando io spengo la corrente ricordatevi che tutte le memorie interne si azzerano e gli unicoli che sopravvivono sono le memorie esterne le memorie di massa quando lavora la CPU ricordatevi che la memoria di massa non la vede perché è troppo lenta e deve lavorare per forza con la memoria interna e poi c'è l'operazione di avvio del programma quando lo carico lo faccio partire quando leggo i dati allora ci sono operazioni di trasferimento da memoria di massa a memoria centrale e viceversa quando leggo o salvo i dati ma la CPU lavora con la memoria centrale quando esegue il programma l'ultimo tema che ci prende gli ultimi cinque minuti è quello di come tutti questi componenti di cui abbiamo parlato oggi sono collegati tra di loro il tema è che noi abbiamo della memoria centrale abbiamo del CPU abbiamo delle periferiche abbiamo dei connettori di espansione all'interno del computer con cui colleghiamo altre cose abbiamo le porte USB tanta roba che deve parlarsi tanti componenti che devono parlarsi tra di loro chi ha progettato un calcolatore ha detto sì ma se io ho tanti componenti che devono parlarsi tra di loro quanti fili dovrò mettere perché tutti possono parlare con tutti ecco chiaramente la risposta non può essere metto tanti fili in modo che ciascuno possa parlare direttamente c'è un filo per parlare con chiunque altro devo avere un sistema di comunicazione interno tra questi componenti che sia efficiente e quindi si sono inventati questa cosa strana che si chiama BAS che poi ha più il nome strano che non ha funzionamento che sono delle linee di comunicazione condivise sono i corridoi no? se tu che sei seduto lì vuoi spostarti là non è che c'è una linea diretta che ti parta da qui a là tu devi fare la fila poi fai i gradini poi fai di là fai un passaggio questo passaggio è condiviso magari in quel momento c'è qualcun altro che sta occupando quel passaggio aspetti il tuo turno ecco qui funziona esattamente nel stesso modo le varie unità di un calcolatore la CPU la scheda video la tastiera la memoria la memoria di massa tutto quello di cui abbiamo parlato e di più sono tutte unità queste scatoline arancioni o gialle che siano non sono collegate direttamente da di loro ma ciascuna di esse è collegata a un gruppo unico di fili alla fine sono dei fili che chiamiamo bus questo bus si usa a turno se questo deve parlare con questo lo può fare mentre i suoi dati qua questi dati viaggeranno arriveranno là durante questo trasferimento questo qui non può parlare con quest'altro perché i fili sono unici quindi in un bus avvengono tanti trasferimenti dati da un qualunque blocco a un qualunque altro blocco quindi c'è la massima versatilità ma ci vuole un ordine adesso parlo io con lui adesso parla lui con me doviniamo un po' chi è che dà questi ordini unità di controllo decide chi deve parlare e chi deve stare zitto ovviamente tipicamente dice alla memoria dammi il dato la memoria mette il dato sul bus e lei se lo legge o viceversa dice alla unità in metico logica butta fuori il dato del registro 3 e alla memoria dice salvati questo dato che vedrai sul bus nella cella 1000 questo dato viaggia e ognuno dei blocchi fa quello che deve fare quindi anche il trasferimento dei dati sul bus è governato da una temporizzazione che viene data dai comandi delle unità di controllo sentiamo nel dettaglio un bus è caratterizzato se ho detto che è una serie di turni per trasferire dei dati quali sono i suoi dati le sue caratteristiche quanti trasferimenti riesce a fare al secondo quanto è veloce numero di trasferimenti al secondo e quanti dati può trasportare in un singolo trasferimento quindi la velocità o la frequenza di trasporto e l'ampiezza posso avere un bus di 32 bit di 64 di 8 chiaramente se sono furbo creo un bus la cui ampiezza sia la stessa dei registri del CPU così quando devo salvare o leggere un dato dal CPU riuscirò a leggerlo in un solo trasferimento di bus non servirebbe a niente avere un bus più grosso perché tanto i dati del CPU quelli sono avere un più piccolo mi richiederebbe di fare due trasferimenti ogni volta che devo salvare un dato a sua volta questo bus questo insieme di fili lo dividiamo in tre gruppi che prendono il nome del bus degli indirizzi address bus e il bus dei dati data bus perché quando io devo leggere o scrivere un dato quindi bus dei dati e bus degli indirizzi che sono separati allora sul bus degli indirizzi codifico degli indirizzi e quindi lui deve avere tanti bit quanti servono per indirizzare tutte le celle possibili di memoria per assurdo ho mille celle di memoria mi basterebbe un bus degli indirizzi con 10 bit dura 10 fa già 1024 mi basta dipende da quante celle di memoria ho l'address bus che mi serve il data bus dipende da quanto sono ampi i dati che devo portare a spasso e quindi dipende alla fine da quanto è ampio il registro della CPU e quanto è ampia la cella di memoria il control bus è il bus su cui viaggiano i comandi che arrivano dalla CPU che dicono chi deve leggere chi deve scrivere e chi deve star zitto e quando devono farlo c'è anche il clock lì che viaggia che dice adesso tu mandi fuori un dato tu lo leggi tutti gli altri stanno zitti fatelo adesso alla fine nel control bus ci sono e più normalmente c'è anche un segnale di stato che dice l'operazione è terminata segnali di controllo di temporizzazione di questo genere che servono alle varie unità a sapere cosa devono fare di tutte queste slide c'è una formula che è questa che ci dice qual è la relazione tra la memoria di un calcolatore e la dimensione e la dimensione dei suoi base di sistema e di fatti ti dice guarda se io ho un computer che ha una certa base degli indirizzi e una certa base dei dati come le dimensiono? beh il bus dei dati lo dimensiona sulla base del parallelismo dell'alu e dei registri e della memoria centrale è stupido avere un computer in cui la memoria centrale i registri e l'alu non abbiano lo stesso parallelismo non abbiano lo stesso numero di bit e il bus che deve trasportare i dati noi anche lì lo facciamo della stessa dimensione ci sono casi in cui ciò non è vero ma sono di solito casi che si fanno per risparmiare soldi quando non serve magari la velocità di calcolo e poi quanta memoria ho? e beh prima dicevamo computer con 32 gigabit 32 gigabyte 32 giga quante celle sono? 32 miliardi quanti bit mi servono per indirizzare 32 miliardi 32 giga? a mente? logaritmi in base 2 di 32 miliardi? allora ricordatevi un chilo sono mille ma sono anche 2 alla 10 un mega è un milione ma è anche 2 alla 20 un giga è un miliardo ma è anche 2 alla 30 32 è 2 alla 5 quindi 32 giga sono 35 non guardatevi così strani non guardatevi così strani se io avessi è un logaritmo ciò che in base 2 è facile da calcolare se io voglio indirizzare 32 miliardi di celle diverse mi servirà un data un address bus con almeno 35 bit perché se sono 35 bit non riesco a scrivere il numero binario 32 miliardi poi ogni cella però a sua volta non è un bit solo sarà un byte 2 4 8 allora questa formula mi dice che se io ho un calcolatore con una certa dimensione di data base una certa dimensione di address bus questo mi da il limite massimo della capacità di memoria che ci potrò mettere dentro quel calcolatore e che quel computer potrà mai vedere cioè il numero di celle di memoria massime installabili a budget infinito che è dato dal 2 elevato al numero di indirizzi per la grandezza di ciascuna di queste celle di memoria l'ampiezza della cellula di memoria e abbiamo detto che normalmente l'ampiezza della cellula di memoria è uguale all'ampiezza del data base se abbiamo un sistema ben dimensionato da cui questa formulettina qua di cui ci diletteremo la settimana prossima a fare esercizi di applicazione alla fine in questo al di là dei concetti che sono riassumibili in questa figura gli esercizi le domande che ci sono all'esame su questa parte qui sono o domande descrittive dimmi cosa sono i flag o cose di questo genere oppure sono domande di calcolo di dimensionamento che si basano o su questa formuletta qua dei bus oppure sul numero di cicli di clock per istruzione per eseguire un programma a quella con una certa frequenza di clock avevamo già visto prima i conticini che avevamo fatto prima con le istruzioni da eseguire ma come dicevo la settimana prossima nelle maratone online faremo un po' di esercizi di questo genere per marcare la cosa grazie a tutti e ci vediamo mercoledì grazie a tutti